Ciao questo è il video che parte per l'aggiornamento dell'OS Geolotto iniziamo fin dall'inizio procediamo con l'elenco e procediamo a download e lo iniziamo così download come si fa a scaricare l'OS Geolotto? la prima si va su Forge si va in questo sito dove da anni si scaricano tutta una serie di software non so quale cartella se siete qui ritornate su file e qui troverete tutte le versioni dalla 5.5 di tutte le versioni di OS Geo andate sulla 8 perchè la 8 c'è il motivo oggi vediamo come installare e aggiornare la versione 8 di questi file il file che bisogna scaricare è questo però io ho già scaricato perchè 3.8 ci vuole un po' di tempo ho visto che oltre ad avere difficoltà a trovare questo sito e anche alla difficoltà di scaricare OS Geootto perchè sono 3.8 ho trovato questo metodo qua io ho fatto una cartella dove ovviamente posso distribuire anche io se comunque è una cosa diretta per aiutare la diffusione di OS Geo ho fatto in questa cartella tutte le varie versioni di OS Geo quindi dopo vi do il link voi potete prendere e attivare questa cartella di google drive per scaricare la versione questo cosa vi permette di fare? prima di tutto di scegliere una o l'altra cartella ma ad esempio se noi decidiamo di prendere OS Geo non bisogna semplicemente prendere e scaricare ma potete tranquillamente aggiungere al vostro drive questa cartella quando è pronto la potete scaricare in tranquillità e averlo nel vostro drive è vero la dimensione è 4GB quindi se aggiungete al vostro drive vi toglie 4GB su 15GB però vediamo come attivare questa procedura io ottengo il link lo posso prendere e condividere se ad esempio vado in un altro mio account cambia persona vado in limo questo è un account come potrebbe essere il vostro incollo il link comunque vado al link mi chiede di avere il permesso richiedo l'accesso io dalla mia parte avrò una notifica che mi dice ti posso dare l'accesso un attimo che vado il gmail non voglio far vedere le mie mail ok qua sotto accedo ho visto che lima city street mi ha richiesto l'accesso apro impostazioni di condivisione e a questo punto vi posso condividere l'accesso ok può visualizzare se non è una cartella che si modifica si conferma ritorno qua faccio aggiorno e adesso ho la possibilità di scaricare questo sgolotto cosa succede? se io prendo lo scarico posso scaricarlo e aspettare che fa il download invece se faccio aggiungi ai miei drive io troverò il mio diciamo la mia versione questo live questo DVD già pronto nel mio drive e nel caso in cui infatti mi dice qua sotto nel caso in cui avete Windows o Mac attivate la sincronizzazione col desktop e vi ritroverete quando sarò pronto questo file direttamente sul desktop senza necessità di aspettare che finisca il download ci penso a lui quando finisce il download vi dice che il download è completato è nella vostra cartella bene poi quando l'avete scaricato potete fare ok c'è qualche condividi quindi posso abbandonare la cartella no faccio semplicemente rimuovi dal mio drive e questo non mi occuperà più lo spazio di osgeo vorrei rimuovi ok è ancora accessibile da parte dei collaboratori qua ce l'avremo ancora condivisa con me ma non occuperà più lo spazio dei 4GB bene una volta scaricato se lavorate aprite la vostra macchina virtuale il vostro virtual box ihnen scaricate la virtual box l'ultima versione tenetelo sempre aggiornato c'è direttamente download e scegliete la versione per mac, linux o per windows